... Abbiamo rilevato il bisogno di un sistema antirribaltamento in quanto i sistemi di piccoli come escavatori e muletti sono frequentemente soggetti a ribaltamento e i mezzi di prevenzione già presenti sono molto costosi. La soluzione alla quale abbiamo pensato è SafeGrade cioè un sistema antirribaltamento che si basa sul calcolo del baricentro del mezzo di mezzi come piccoli escavatori e muletti. Il baricentro viene proiettato all'interno dell'area di base e quando si trova al di fuori del perimetro della base manda un avviso all'operatore di allerta in quanto si trova in una situazione di pericolo. In caso contrario si trova in una situazione di stabilità. La nostra soluzione presenta il vantaggio di essere estremamente economica e quindi di potersi applicare anche alle piccole imprese rispetto alle soluzioni dei mezzi tecnologicamente più avanzati. Inoltre presenta la possibilità di costruire una banca dati attraverso cui le aziende possono rendersi conto della situazione e della loro sicurezza interna. Grazie a tutti! Grazie a tutti!